No, sono tornata perché mi mancava tantissimo venire al cinema, la sala buia, l'atmosfera che si crea, quindi ho guardato anche qualcosa a casa, in streaming, ma non è la stessa cosa, quindi non vedevo l'ora di tornare. A me il cinema piace molto, quindi diciamo che questo cinema è anche lontano da casa mia, però non mi ha fermata più di tanto questo perché ci tenevo tanto a ritornare il prima possibile, quindi spero che anche gli altri riaprano il prima possibile. Il resto è il primo piano, la porta a sinistra, mi raccomando, sostanzialmente. Nonostante la pandemia, nonostante l'emergenza sanitaria, oggi possiamo affermare che ritornare al cinema è un'esperienza che può essere vissuta in tutta sicurezza. I protocolli che oggi noi seguiamo danno la massima sicurezza al cliente e danno la massima sicurezza ai dipendenti e quindi vogliamo che le persone sappiano che possono ritornare al cinema in tutta sicurezza.